finale, Maiorino, se riusciamo a parlare come del lavoro del suo assessorato stando, come si dice, sul pezzo perché c'è questo nuovo spot contro l'emarginazione persone seropositive realizzate con l'ospedale Sacco, lo presenterà tra poco la fabbrica del vapore, è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS insomma c'è ancora tanta strada, Milano è sempre stata l'avanguardia anche su questo fronte o sbaglio? sì, Milano è stata una città che ha fatto tantissimo, il comune, le associazioni hanno fatto molto su questo, devo dire in anni in cui io non c'ero assolutamente quindi in questo caso non rivendico nessun tipo di merito però torniamo al discorso iniziale, Milano è una città attenta è proprio una città che su questo piano in alcune occasioni libere energie che ovunque non esistono, bisogna dire che sull'AIDS c'è il rischio di una rimozione anzi siamo nel pieno di una rimozione significativa ne abbiamo parlato proprio oggi pomeriggio in un convegno a Palazzo Marino mettendo insieme diverse esperienze a confronto il rischio che ad esempio tante ragazze, tanti ragazzi pensino che l'AIDS o generalmente il tema delle malattie sessualmente trasmissibili possa non riguardarli invece il rischio c'è riguardo le persone omosessuali e le persone eterosessuali e secondo me va portato avanti un messaggio di aiuto a chi è malato molto puntuale anche rispetto agli interventi della cosiddetta presa in carico e del sostegno a loro ma poi un messaggio molto positivo di prevenzione parlando di informazione sessuale di uso del preservativo è incredibile che dobbiamo ancora farlo nel 2015 però purtroppo i dati ci dicono spesso di una sottovalutazione pericolosa e quindi credo che dobbiamo tutti quanti essere molto senza allarmismi senza anche un messaggio cupo alle ragazze e ragazzi senza fare di colpo i bacchettoni impauriti però dire ragazze avete diritto a una sessualità libera godetevela fino in fondo nella massima sicurezza c'è un po' di bigottismo di ritorno mi sembra in questi anni certi temi li metti nei convegni ma non ne fai li hai espulso, hai paura tanto che ai politici a me è la cosa che colpisce questo lo dico da sessuale politiche sociali ma anche proprio da cittadino a me colpisce molto il fatto che vi sia quasi una paura, un'assenza di politici che parlano di questi temi politici nazionali che parlano ad esempio di sesso di informazione sessuale non li vedi mai eppure stiamo parlando di vita ma anche la stessa giornata fino a qualche anno fa era molto più sentita forse perché c'era una partecipazione diversa anche dalla classe politica su questi temi sì beh devo dire che oggi sono fatte tantissime cose veniamo peraltro da una settimana molto intensa perché il 25 di novembre è la giornata in cui si ragiona assieme si mettono a confronto le azioni riguardanti la lotta la violenza degli uomini sulle donne e quindi una settimana nella quale poi in un modo o nell'altro si parla molto di questi temi bisogna tenere altissima la tensione e l'attenzione positiva a me piacerebbe siccome tengo molto all'idea di radio di servizio in qualche modo c'è un problema che è pratico che è quello dei senza tetto delle persone senza fissa dimora c'è il problema del freddo so che lei è particolarmente attento il comune su questo si è mosso com'è la situazione in questo 2015 perché in questi giorni fa molto freddo lo farà sembra ancora di più dopo il ponte dell'immacolata che c'è veramente un cambio ancora di tempo perché bene o male di giorno si sta anche abbastanza bene ed è morta anche una persona per adesso per cui cosa sta facendo il comune? ci sono, come si può fare? segnalare i casi? a me è capitato di segnalarlo quindi vuol dire noi stiamo mettendo a disposizione posti in una quantità piuttosto significativa per il senza tetto basti pensare che quando siamo arrivati nel 2011 i posti a disposizione in periodo invernale per il senza tetto erano 1248 oggi arrivano nell'inverno a 2700 quindi diciamo che sono posti che apriamo progressivamente in queste settimane adesso abbiamo circa 300 posti liberi nei nostri dormitori nelle nostre case d'accoglienza nelle nostre diverse strutture abbiamo circa un 400 senza dimora senza tetto che in tutti i modi non accettano di andare in dormitorio mettono a repentaglio la loro vita in questo modo e noi chiediamo ai cittadini di segnalarceli sempre perché una parte di essi sono proprio invisibili devo dire che il ragazzo il giovane uomo egiziano che è morto l'altro giorno non è morto probabilmente per assideramento per cause riguardanti il freddo ma comunque evidentemente è una cosa che non si può accettare che in piazza San Babila si ritrovi un cadavere insomma se vedete situazioni di questo tipo potete chiamarelo 0288447645 oppure 46 finale 4748 ripeto 0288447645 e appunto segnalare Franzi c'è bisogno di qualcosa magari per capire anche se c'è bisogno di qualche donazione avete in programma delle raccolte per quest'inverno e noi abbiamo fatto due giornate di raccolta straordinarie in autunno raccogliendo in due giorni oltre 110.000 capi per i senza tetto i profughi le famiglie dei profughi però insomma portare una coperta o un sacca pelo è sempre utile e sul sito del comune comune.milano.it si trova tutto ci sono decine di organizzazioni che lavorano con noi nella gestione dei centri abbiamo 17 unità mobili che presidiano di notte la città però sappiamo che il freddo è rigido è un diciamo è un avversario imbattibile in alcuni casi e bisogna fare tutti assieme il proprio dovere insomma io ne faccio l'ultima domanda ancora di politica di elezioni di primarie insomma quando ci saranno secondo lei la sua sensazione quando si fanno a marzo secondo me a marzo tra fine febbraio e primi di marzo secondo me alla fine tra quello che chiede Roma e quello che proponiamo noi alla fine ci collocheremo una via di mezzo una via di mezzo io spero che si facciano prima il 7 febbraio io le avrei fatte addirittura a metà dicembre nel senso che secondo me a questo punto prima si fanno meglio è perché decidono i cittadini anche della Lombardia si fanno i cittadini credo che sono degli automi o dei deficienti sono persone che possono benissimo farsi un'idea e a quel punto quando hai deciso il candidato poi tutti assieme lo si deve sostenere perché la sfida vera è per il governo della città le primarie sono un'opportunità non sono una contesa tra galli nel pollaio Franzi è soddisfatto di questa prima ora con il compagno io voterei a due mesi così almeno abbiamo discusso tutto in due mesi e torniamo a parlare di altri sì anche perché poi parliamo poi dei programmi anche dei confronti veri aspettiamo anche il candidato del centrodestra avremmo potuto parlare anche di quello sì che poi da quelle parti adesso parliamo sempre noi siamo specializzati nel centrosinistra per far parlare sempre di noi di tutte le divisioni e in questo siamo dei professionisti invidiati nel mondo credo però dalle parti della destra non mi pare che ci sia nulla ancora non so se questa ipotesi di Sallusti sia vera nel caso bisogna veramente insomma sembra che sia passata però dopo loro alla fine trovano un nome e vanno avanti hanno questa capacità comunque di compattarsi sul nome che ci ritroveremo con questo nella campagna molto lunga quindi avremo modo ancora di sentire Magliorino grazie per Francesco Magliorino grazie Alessandro Franz grazie a voi nel notiziario pane al pane